buongiorno allora continuando ad analizzare i vari modi in cui la narrativa in particolare fra l'ottocento e il novecento si è suddivisa in vari generi e quindi in particolar modo in cui il romanzo il racconto si sono suddivisi in vari generi dopo aver affrontato la narrativa di carattere fantastico diretta discendente delle narrazioni mitiche della fiaba e della favola andiamo a vedere invece la narrativa realistica quella che si ispira a un'idea fondamentale cioè che il racconto e la narrazione debbano riprodurre il reale ciò che noi nel reale viviamo per permetterci di conoscerlo di comprenderlo meglio in questo momento in questo modo anzi la narrativa diventa uno strumento di indagine e di conoscenza anche se una narrativa che non è necessariamente cronaca cioè non è riportare fatti realmente accaduti in forma di romanzo di racconto anche se gli elementi quindi della narrazione sono inventati anche se le storie non sono esistite però vuol dire che la realtà in qualche modo deve essere rispettata deve essere rispettata in che cosa tutto quello che viene raccontato deve essere possibile deve essere qualche cosa che noi possiamo riconoscere in senso logico come appartenente al mondo che esiste o che potrebbe esistere realmente quindi sono esclusi tutti quegli elementi che hanno a che fare con il fantastico sono esclusi tutti gli elementi che hanno a che fare con il l'irrazionale non spiegabili sono esclusi tutti gli elementi che hanno a che fare con la fantascienza la narrativa realistica e il giallo voi capite si muove a un po a metà perché il giallo presenta delle invenzioni narrative che a volte hanno a che fare con elementi sovrannaturali ma altre volte con elementi estremamente possibili nel mondo quindi si muove a metà fra questi due elementi fra questi due generi la narrativa realistica nasce nell'ottocento perché nell'ottocento è cambiata qualche cosa in particolare col romanticismo è cambiata l'idea che la realtà sia ciò che è ideale ma invece si considera come reale ciò che accade realmente questo è un cambiamento abbastanza significativo per comprenderlo meglio devo spendere due parole per farvelo comprendere meglio il mondo fino al settecento ha immaginato che ciò che è vero è ciò che è reale non è ciò che appare non è ciò che capita ma è ciò che come struttura come forma come idealità è al di sotto della realtà in particolare non è tanto importante quanto è reale quel cavallo che esiste realmente per carità e quindi reale ma è importante l'idea di cavallo nella sua perfezione l'idea di uomo nella sua perfezione per cui non c'era un grande rispetto per gli aspetti storici gli aspetti storici quali sono? Sono tutti quegli elementi che ci permettono di vedere come una vicenda un personaggio una società cambiano e all'interno del quale una serie di elementi come le condizioni sociali lo sviluppo tecnologico le intenzioni le volontà dei protagonisti interagiscono fra di loro per modificare la storia insomma la realtà è qualcosa in movimento all'interno del mondo ottocentesco mentre quello che era in movimento era l'apparenza per il mondo settecentesco non aveva la stessa validità la stessa importanza che ha nell'ottocento poiché le cose sono cambiate però diventa molto interessante cercare di ricostruire la realtà con i suoi conflitti con le sue dinamiche con la sua storia e questo se volete è anche uno dei motivi per cui il romanzo e il racconto che da esso deriva in termini molto moderni nasce proprio con l'inizio dell'ottocento cosa si intende per racconto realistico quindi un racconto che mette al centro una ricostruzione il più possibile fedele dell'ambiente in cui si muovono i personaggi e che cerca di immaginare come questi personaggi che hanno una storia ben precisa ben determinata che vengono da una determinata famiglia una determinata ambientazione una determinata classe sociale e che hanno una mentalità che è frutto di quelle condizioni si possono muovere quando delle condizioni o degli stravolgimenti realistici quindi verosimili possibili accadono e li chiamano in gioco questo non ha nulla a che vedere quindi con il fantastico l'altra cosa è che la narrazione realistica cerca di indagare lo farà in particolar modo nel novecento ma lo fa anche nell'ottocento in che modo la realtà sociale cioè l'ambiente nel quale siamo immersi condiziona i nostri modi di pensare e di agire ci sono grandi autori nell'ottocento che si danno a questo tipo di narrazione ne possiamo citare due grandi uno francese uno inglese nella prima metà come honoré de balzac che addirittura costruisce un ciclo che intitola la commedia umana per descrivere in particolar modo la realtà che lui conosceva meglio quella della borghesia francese degli intellettuali francesi in particolar modo di parigi e quello di charles dickens in inghilterra che descrive vari livelli sociali in inghilterra lo fa sempre con una grossa attenzione per la cura dei particolari e della nella descrizione della società che si muove il sistema educativo il modo in cui i bambini vengono quindi cresciuti i rapporti familiari le condizioni di miseria in particolare i debiti le prigioni per debiti la difficoltà dei ceti più bassi l'ipocrisia l'arrivismo di un mondo che si sta industrializzando una fase ulteriore uno sviluppo ulteriore in questa continua ricerca della scoperta del reale che è un naturalismo naturalismo è un particolare tipo di narrazione che si sviluppa in francia e che ha come iniziatore pur non appartenendo pienamente al movimento un grandissimo autore l'autore di madame bovary che è gustave la bea che considera importantissimo raccontare con dovizia di particolari come i personaggi si muovono all'interno di determinati ambienti sociali ma è un'idea anche successiva diversa un'idea importante qui gli intellettuali gli scrittori pensano di poter fare una cosa che stanno facendo gli scienziati della natura nel naturalismo che non a caso si chiama così perché si ispira ai principi della scienza della natura si immagina di utilizzare il racconto del romanzo come i luoghi in cui è possibile fare degli esperimenti sociali cosa fa uno scienziato lo scienziato prende degli elementi naturali li porta in laboratorio ricostruisce tutta una serie di condizioni che lui può controllare e facendo muovere o modificando le condizioni in cui gli oggetti si muovono cerca di ricavare delle leggi ad esempio la legge chimica che lega l'ossigeno con l'idrogeno lo fa diventare acqua misura verifica le condizioni e cerca di vedere come cambiando le condizioni possono cambiare le reazioni per esempio fra gli elementi chimici ma questa cosa voi capirete non è possibile farla con le persone io non posso prendere delle persone metterle in un laboratorio e magari chiuderne qualche d'una in galera prendere qualche d'un'altra e dargli delle armi e vedere se si uccidono fra di loro però posso farlo in un'altra maniera cioè posso creare sulla carta un mondo di questo tipo e create le condizioni che devono essere il più possibili simili a quelle che io ho osservato nella società vedere se cambiando un elemento cioè inserendo all'interno di una condizione che è normale quella che noi chiameremo una situazione iniziale un elemento nuovo per esempio una società come quella nostra è un certo punto io faccio arrivare in classe un ragazzo che ha fatto la guerra come bambino soldato in africa chiaramente non lo posso fare non posso utilizzare gli studenti e quel ragazzo come cavie però posso provare a immaginare da scrittore che cosa potrebbe accadere se ho compreso bene la psicologia dei miei studenti se ho compreso bene l'ambiente sociale bergamasco in cui si muovono se ho compreso bene lo spirito di quella classe posso cercare di immaginare che cosa accadrebbe nel momento in cui un ragazzo con questa esperienza con questo vissuto con quei comportamenti che da questa esperienza da quel vissuto sono stati condizionati entrasse in quella classe e seguire con la mia capacità predittiva la storia e scriverla da questo punto di vista il romanzo del naturalismo e del realismo non è un romanzo che copia la realtà ma la copia fino a un certo punto perché vuole fare un esperimento come dice zola io voglio vedere cosa accadrebbe nel momento in cui si verificasse una condizione diversa e lo posso fare utilizzando la narrativa come il mio laboratorio il romanzo diventa esperimento sociale è ovvio che nel farlo cercherò di mettere in luce soprattutto quali sono gli elementi che all'interno di una società costituiscono elementi di carattere problematico cioè portatori di conflitti di ingiustizie di disagio e lo farò con l'intenzione del miglioramento sociale un miglioramento che passa attraverso la denuncia per esempio la denuncia del razzismo latente o dell'ipocrisia o di un meccanismo che ci costringe tutti quanti a pensare in una certa maniera quando sarebbe meglio e più giusto pensare in un'altra oppure se ho individuato bene le cause di questi comportamenti sbagliati la mia voce sarà molto più attenta a far capire che certi comportamenti sono il frutto di un ambiente sociale che molto spesso è causato da un mancato intervento politico o da una volontà di mantenere per esempio i poveri nella povertà o di non migliorarne realmente le condizioni e che se intervengo su quelle cause io posso migliorare il mondo insomma il romanzo per i naturalisti non è semplicemente un bel racconto ma è uno strumento di intervento politico fatto con criteri scientifici mette al centro quindi i ceti sociali di ogni tipo ma in particolare quelli che vivono i maggiori conflitti le classi sociali che in genere vengono considerate colpevoli per mancanza di volontà o per malvagità innata della loro miseria e che invece vengono spiegate vengono comprese anche alla luce dell'ambiente sociale in cui sono costretti a vivere sono costretti a vivere in quest'ambiente sociale a causa di che cosa a causa di una classe diversa più ricca più potente che detiene il potere politico e che invece di intervenire a migliorare le condizioni di vita preferisce trovare nell'alibi della loro mancata volontà o della loro malvagità innata o della loro inciviltà e primitiva brutalità una spiegazione che in realtà li lascia esattamente come sono salvo poi lamentarsi che la città è piena di delinquenti o piena di problemi gli scrittori che principalmente lavorano su questo sono i francesi dickens in realtà aveva fatto una cosa del genere ma dickens aveva comunque non messo troppo il dito nella nella piaga non aveva detto che era una questione politica aveva affidato il miglioramento delle classi sociali a un vago filantropismo da parte dei più ricchi che comunque rimanevano una classe sociale più alta più elevata e più privilegiata i francesi forse anche perché figli della rivoluzione tendono maggiormente a impostare il problema come un problema di carattere politico e sociale che richiede un intervento strutturale diremmo noi il più importante di questi è zola che proprio è un grande scrittore ma è anche un grande poemista è uno che sui giornali prende spesso posizione contro quelle che ritiene le ingiustizie sociali politiche e anche di altro tipo all'interno del dibattito politico francese in italia noi conosciamo una forma particolare di romanzo naturalista che è il verismo che in particolare si afferma non a caso nelle zone economicamente più arretrate il sud italia la sicilia e la sardegna c'è una differenza però dato che la condizione italiana non è una condizione dal punto di vista economico avanzata come quella francese in cui la rivoluzione industriale della prima della seconda metà del dell'ottocento ha creato dei nuovi disagi dei disagi legati alla condizione degli operai in particolare delle periferie urbane la narrazione invece dei veristi italiani è una narrazione che si ferma in un mondo che appare molto più immobile come se fosse condannato a essere così dalla notte dei tempi da secoli che è il mondo contadino infatti negli scrittori italiani in particolare in verga anche in capuana anche in grazia dell'edda non si avverte quella sensazione che sia molto forte in solà per cui è possibile cambiare le cose anzi il messaggio che ne emerge al di là della ricchezza con cui vengono descritti questi meccanismi sociali che distruggono intere vite è quella che ogni tentativo di migliorare la propria condizione economica non si risolva altro che in un peggioramento perché a essere sbagliato di fondo è proprio il meccanismo sociale dell'economia dell'economia industriale che crea continuamente dei vincitori ma che li crea perché molti altri vengono schiacciati e vengono peggiorati per cui la soluzione migliore sembra dire verga è quella di cercare di accontentarsi di quello che si ha e di non accettare la grande illusione di un progresso personale o familiare che sembrerebbe invece essere garantito a tutti dall'avanzare dell'economia dal miglioramento del sistema politico perché questo è soltanto un'illusione più cercherai di diventare ricco o di migliorare la tua condizione più troverai un mondo che ti farà la guerra che entrerà in competizione con te e che molto spesso ti ricaccerà in una condizione che è peggiore di quella da cui sei partito questo è bene o male il realismo ottocentesco nelle sue grandi linee da un lato la critica che vuole portare un miglioramento influenzando la politica dall'altro invece una critica che asserisce l'impossibilità e soprattutto la malvagità del progresso scientifico e politico che ha un progresso solo apparente e che non fa altro che vittime per cui l'unica è resistere senza cercare di assecondarlo poi abbiamo invece nel novecento un realismo diverso che fa i conti con una cosa che troveremo anche nelle narrazioni di carattere psicologico che è la maggiore coscienza di una realtà interiore questa volta se gli ambienti sono importanti il realismo è sempre molto curato nel descrivere le ambientazioni sociali siamo sempre collocati in un preciso momento storico un preciso un preciso ceto sociale una preciso una precisa città ma facciamo i conti anche col fatto che gli individui per educazione per estrazione familiare per esperienze che hanno avuto e che li hanno segnati sono dotati di una psicologia cioè di modi di pensare e di reagire anche istintivi alle azioni che sono molto forti e che sono condizionati da due nuovi elementi il primo è la scoperta dell'inconscio che ha fatto nice schopenhauer e poi ha elaborato in maniera più scientifica freud e che prevede che in realtà molte delle nostre azioni non siano atti di volontà ma siano atti determinati in maniera automatica da pulsioni da desideri di cui non siamo neanche sempre del tutto consapevoli e che ci agitano all'interno l'uomo è misterioso anche a se stesso quindi non si può imputare sempre a lui una colpa lui stesso non riesce a comprendere molto spesso i motivi delle sue azioni l'altro è appunto il contesto sociale un contesto sociale che nella società sempre più industrializzata sta creando delle forme conformiste dei modi delle morali che tendono a ridurre tutti gli uomini in qualche maniera a degli esseri uniformi non a liberare in loro gli elementi più creativi ma a trasformarli in quello che noi diremmo degli stereotipi degli ideal tipo un buon padre deve comportarsi sempre in una certa maniera una donna non deve fare certe cose è giusto che un professore abbia solo questi comportamenti uno studente altrettanto non devi superare i tuoi limiti tutto questo permette alla società di rimanere tranquilla ma anche sostanzialmente ferma e si riflette in un'altra sensazione nel momento in cui l'individuo al suo interno avverte di avere dei desideri e delle pulsioni ma avverte anche che se lo facesse la società lo prenderebbe per folle ingrato fuori luogo si avverte un conflitto se io voglio essere libero devo accettare di essere non solo criticato ma anche estromesso dalla società se invece voglio adeguarmi ad essere accettato dagli altri devo sentirmi per tutta la vita uno che non può fare quello che vuole questo è un conflitto insanabile che dà vita a varie forme per esempio alle forme molto più forti del sentirsi inetti cioè incapaci di essere pienamente aderenti ai modelli che ci vogliono imporre dall'alto oppure di sentirsi estraneo alla vita nel senso che dentro di me c'è qualcosa che io chiamo vita che sono i miei desideri, le mie pulsioni ma che non riesco a realizzare quindi io vedo vivere gli altri, vedo la vita che mi scorre ma non la vedo realizzare in me e tutto questo porta continuamente a una critica delle forme e dei valori della società contemporanea della società in cui vivono questi autori e in cui fanno nuove i loro personaggi che a volte è ottimista, a volte è pessimista è ovvio che c'è sempre il tentativo di descrivere il mondo in cui si vive infatti la narrativa racconta adesso sempre più la contemporaneità e cerca di aprire gli occhi, di far vedere ai lettori quali sono appunto le contraddizioni non solo nelle azioni ma anche all'interno della psicologia dei personaggi che sono il frutto di tutto un sistema culturale, sociale, politico, economico, di valori che in quel momento vive intorno una fase successiva si avrà nel secondo dopoguerra quando la scrittura si farà neorealista qui l'idea è animata da un certo ottimismo di fondo che invece era abbastanza insordina nelle narrazioni del primo novecento il neuralismo vuole raccontare quasi in forma di documentario la storia degli anni immediatamente precedenti o degli anni che vivono e cerca di mettere in luce, in particolare animato da un desiderio di trasformazione politica che dopo la seconda guerra mondiale si crede fortemente possibile la umanità più dolente, quella degli emarginati, quella dei poveri quella degli esclusi in qualche maniera dalla ricchezza che faticano e sono condannati da un meccanismo sociale a essere sempre ricacciati nel fango, nella miseria qui il dramma diventa più forte però per raccontare queste cose e per essere credibili lo scrittore deve intervenire sempre di meno tutta la narrazione realistica per dare l'idea proprio che si sta raccontando come in un documentario una storia sia pure inventata deve fare in modo che lo scrittore scompaia che non intervenga che non metta troppi aggettivi qualificativi perché quelli denotano per esempio un suo giudizio che si limiti a descrivere e faccia parlare fondamentalmente i fatti questo è il motivo per cui la maggior parte di queste narrazioni sono in terza persona c'è un racconto dall'esterno come se io avessi una videocamera che guarda le persone muoversi senza dare troppi giudizi e che lascia agire dentro il lettore il giudizio i temi sono ovviamente quelli dell'attualità sono il conflitto la descrizione dell'ambiente sociale inteso come ambiente in cui si vive le case gli strumenti che si hanno gli oggetti del lavoro la fabbrica il mondo i rapporti sociali i personaggi sono soprattutto quelli che maggiormente pagano il conflitto e che spesso sono eroi perdenti che vengono però messi in una luce positiva per il lettore e poi ovviamente il lessico e lo stile se devo imitare la realtà la narrazione deve cercare di adottare un lessico che non è quello alto quello aulico e deve essere un lessico contemporaneamente impersonale nelle descrizioni ma molto oggettivo e quindi molto imitativo del reale nei dialoghi per cui molto spesso ci sono anche se un personaggio deve parlare da ignorante ci sono espressioni da ignorante ci sono espressioni sgrammaticate parole che derivano dal gergo parole dialettali o comunque di un dialetto italianizzato tutto questo che è una caratteristica comune a tutti gli elementi realistici a tutti gli scrittori realistici viene sicuramente messo maggiormente in luce negli anni del neorealismo una forma particolare di narrazione realistica che in parte ne costituisce il precedente è il romanzo storico che si afferma nei primi anni del 1800 primi vent'anni circa fino al 1830 nel 1800 in cui si cerca di rintracciare nella storia che come vi ho detto ha assunto un valore totalmente nuovo perché permette di vedere la verità nel suo dispiegarsi la realtà nel suo trasformarsi e quindi si prendono delle vicende storiche realmente esistite e su questo sfondo di vicende storiche appartenenti al passato si raccontano delle storie inventate grandi autori dell'ottocento sono stati Walter Scott in Inghilterra il nostro Alessandro Manzoni che addirittura ha costruito tutta una poetica sul vero e il verosimile ma anche autori russi come Piuskin o autori francesi come Stendhal la narrativa storica il romanzo storico ha avuto poi chiaramente una sua evoluzione fino ai giorni nostri che cosa fa? prende delle vicende appunto realmente accadute la rivoluzione francese oppure le crociate e le racconta però in modo romanzesco una cosa che a Manzoni non sarebbe particolarmente piaciuta cioè falsificandone alcuni aspetti per aumentare gli effetti emotivi sentimentali però su questa storia che è realmente accaduta e che viene raccontata dopo una buona documentazione vengono ambientate in questo contesto delle vicende inventate ma verosimili non abbiamo quindi a che fare con maghi, streghe, elfi ma con personaggi nella loro concretezza come potevano essere i personaggi a volte sono personaggi reali cioè sono esistiti realmente ma si inventa di questi personaggi quello che non si sa per esempio si sa cosa hanno fatto ma non si sa cosa hanno pensato non si sa quali sono le loro motivazioni all'azione non si sa come si comportavano nella vita privata queste parti si inventano si affrontano personaggi che appartengono quindi al reale o personaggi inventati che però devono rispecchiare gli ambienti i modi di vestire in parte anche i modi di pensare dell'epoca a cui appartengono sono esponenti di tutte le classi sociali e molto spesso poiché al centro c'è il conflitto sono i protagonisti di queste storie dei giovani che subiscono il processo storico e sociale ma che vi si oppongono come degli eroi che vivono i conservatori come antagonisti e quindi arrivano uno scontro con questi il narratore è un narratore che essendo un narratore del presente che conosce la storia del passato è per lo più un narratore onnisciente e in terza persona che conosce non soltanto come si svolgono esattamente tutti i fatti e come si svolgeranno ma che il più delle volte sa esattamente perché vuole proprio riempire quel vuoto quali sono i pensieri più intimi di tutti i personaggi le loro motivazioni le loro storie personali certe volte le ricostruisce perché il lettone ne sia partecipe questo tipo di narrazione nel novecento chiaramente si deve trasformare e ovviamente anche in questo caso si sposta su un livello psicologico e dai contesti storici che vengono descritti si utilizzano i contesti storici in una maniera più tranquilla meno diciamo ricca di particolari ma si fa molta attenzione invece a descrivere i movimenti psicologici i cambiamenti i turbamenti che vive la psiche e la psicologia dei personaggi in questo caso ovviamente la focalizzazione esterna del narratore oniscente può aiutare fino a un certo punto qui abbiamo bisogno di raccontare con una focalizzazione con un punto di vista interno e molto spesso questo punto di vista interno è un punto di vista fisso qualche volta molteplice perché ci centriamo in particolare sulla psicologia di uno o due personaggi essendo impossibile senza rendere troppo noioso il racconto raccontare o spiegare tutta la psicologia di tutti i personaggi gli autori in Italia del romanzo storico del novecento non sono pochi e questo romanzo ha conosciuto una buona fortuna e una buona ripresa soprattutto nella seconda metà del novecento uno dei romanzi più famosi è sicuramente Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa ma abbiamo anche narrazioni come quelle di Alsa Morante nella storia o di Umberto Eco nel nome della rosa anche di Antonio Tabucchi che con Sostiene Pereira racconta delle storie di un intellettuale durante la dittatura militare di Salazar nel 1938 abbiamo anche altre narrazioni storiche che sono diventate molto spesso narrazioni cinematografiche sto pensando ai libri di Massimo Valerio Manfredi ambientati nell'antica Roma come lo scudo di Talos o nell'antica Grecia ci sono poi altre narrazioni di autori stranieri che sono state molto importanti il dottor Givago ambientato negli ultimi anni dello zarismo e della rivoluzione sovietica in Russia oppure racconti ispirati alle dittature sudamericane come la casa degli spiriti di Isabella Allende insomma la narrazione che mescola storia e invenzione è diventato uno di quegli strumenti che ci permette non soltanto di comprendere le dinamiche sociali ma che fa un'operazione molto spesso di denuncia e di racconto di elementi che nella storia sono stati estremamente negativi e quindi non celebra tanto quei fasti storici ma cerca di mettere in luce delle figure di eroi che a volte pagando anche un prezzo tragico sono state vittime della storia un ultimo discorso va fatto su un tipo di narrazione che ovviamente non poteva che nascere nel novecento e che è centrata tutta sulla narrazione di tipo psicologico il novecento ha un grande punto di differenza con l'ottocento ha scoperto che l'uomo non è animato solo dalla volontà in pratica che l'uomo non è sempre come dire libero di fare quello che vuole perché spesso ciò che vuole gli è del tutto oscuro perché in lui certe azioni sono dettate in maniera istintiva quasi automatica da forze punzioni desideri che sono incontrollabili e su cui al massimo può cercare di comprenderli in parte e avere un minimo di gestione sono il nostro carattere la nostra personalità ma sono anche le nostre paure le nostre fobie inoltre noi con l'inizio del novecento abbiamo messo in discussione tutta una serie di categorie che ci avevano permesso di pensare nell'ottocento che l'uomo una volta che conoscesse bene i fatti potesse scegliere liberamente in particolare abbiamo messo in discussione il tempo cioè la memoria come noi ricordiamo le cose le cose che ricordiamo quanto sono condizionate dal presente noi ricordiamo del passato certe volte alcune cose in maniera vivida altre volte le abbiamo dimenticate com'è che ci ritornano alla mente i ricordi e com'è che i ricordi ci tornano a seconda del momento dell'età alla memoria ci tornano alla mente in maniera differenziata evidentemente il ricordo del passato è condizionato dall'esperienza presente per cui anche la nostra memoria che costituisce il modo in cui noi pensiamo di essere stati quindi la nostra concezione di noi stessi è mutevole nel tempo e per giunta funziona molto spesso in maniera involontaria un autore che fa un'analisi profondissima della memoria e che ci dedica addirittura a sette enormi stupendi bellissimi romanzi come il ciclo della ricerca del tempo perduto appunto è Marcel Proust ma noi abbiamo anche un problema con la memoria perché la memoria è estremamente soggettiva eppure è quella che determina la nostra azione quello che noi pensiamo molto spesso non corrisponde a quello che pensano gli altri prendete due persone che hanno vissuto la stessa situazione il loro punto di vista probabilmente su molti aspetti e non sempre su quelli non significativi potrà andare in conflitto perché noi ricordiamo le cose con un filtro che è il filtro soggettivo la nostra coscienza è una coscienza quindi non oggettiva ed è sempre l'espressione di un'individualità personale che entra in conflitto con le altre ma è un'individualità che cambia a seconda delle esperienze che facciamo la nostra volontà quindi non è assoluta l'inconscio la domina e noi lo conosciamo poco la nostra coscienza è sempre una coscienza parziale soggettiva l'idea che abbiamo di noi stessi è un'idea che nel tempo cambia a seconda delle esperienze che facciamo e la certezza di quello che ricordiamo non è una certezza assoluta è ovvio che questo è un grande campo di indagine per la narrazione che dà vita a una serie di esperimenti letterari importantissimi si va da Svevo a Pirandello a Joyce che cercano di indagare con uno sguardo che non può che essere soggettivo cioè fatto da un narratore interno quali sono appunto i meccanismi con i quali noi pensiamo innanzitutto noi stessi con i quali noi riflettiamo sulla nostra esperienza e quindi noi abbiamo delle esperienze letterarie molto importanti che ci insegnano e ci danno anche un modello per comprendere la complessità e il turbamento il conflitto interiore le contraddizioni ineliminabili della personalità umana che sono dati da questi autori abbiamo un io narrante che quindi è un io inattendibile nel senso che quello che racconta è il suo punto di vista ma ovviamente noi che lo ascoltiamo abbiamo tutto il diritto di dubitare che egli ricordi correttamente interpreti correttamente le motivazioni delle sue azioni dia un valore di importanza adeguato a quello che racconta e che molto spesso raccontano con la tecnica del monologo interiore cioè del discorso fatto a se stesso della confessione intima o del flusso di coscienza cioè di quel meccanismo per cui noi mentre ricordiamo una cosa attiviamo contemporaneamente in questo flusso di coscienza dei ricordi che si innescano sugli elementi che di volta in volta ricordiamo e che quindi ci portano a creare dei percorsi di memoria e di attribuzione di senso che sono sempre più differenziati ecco questi sono i problemi della realtà la realtà che all'inizio sembrava descritta e descrivibile dai narratori dell'ottocento in forma oggettiva diventa estremamente problematica a partire dal novecento e fino oggi raccontare la realtà andando a fondo andando nel profondo diventa una questione sempre più problematica diventa sempre più difficile comprendere cos'è la realtà perché la realtà che pure esiste ed è innegabile che esista non è non è coerente è fatta di contraddizioni di contraddizioni che non si possono eliminare è fatta di conflitti con gli altri è fatta di visioni soggettive e personali di mancanze della memoria di mancanze di esperienza e quindi la realtà interiore che pure condiziona moltissimo quello che noi siamo e che diventa fondamentale per questo è un campo di indagine importantissimo e anche quanto di più ricco da un lato c'è da indagare ma anche di più complesso perché ogni volta che cerchiamo di darle una forma elimineremo ogni volta che cercassimo di darle una forma elimineremo una sua parte considerandola non coerente con il resto mentre tutte le volte che volessimo guardarla nel suo insieme dovremmo rinunciarle a darle un senso preciso chiaro e definito ecco questo è uno dei problemi che la letteratura del novecento ha messo in luce ma è un problema che non riguarda unicamente la letteratura riguarda se volete la vita e con questo io concludo il mio ciclo di lezioni di quest'anno e vi saluto invitandovi a leggere tutti i libri che in un modo o nell'altro hanno affrontato il grande problema che è questo chi siamo e perché ci comportiamo in una certa maniera grazie mille arrivederci